Il bottone rosso. Partito. Ciao ragazzi, sono Mario Falcone, questo è il mio ultimo romanzo, Nero di Siena, come si evince dal titolo e dalla copertina, è un noir ambientato a Siena, la città del Palio, e niente, tutto ruota attorno al duplice omicidio di un banchiere di sua moglie, c'è un poliziotto spicoloso, affascinante, moderno, con delle zone d'ombra molto sviluppate e con un mal di vivere che ancora non riesce a curare, che ovviamente fa quest'indagine e andando avanti con la detection scopre un verminaio di interessi, di corruzione, che in pratica la metafora dell'Italia odierna, un paese ormai moralmente infettato, che speriamo che al più presto trovi la cura. Nero di Siena, ve lo raccomando, non perché l'ho scritto io, ma perché è oggettivamente una gran bella storia. Ciao!